Presso la sede di Forza Italia, i giovani hanno organizzato un incontro per sottolineare lo stato dei fatti per quanto riguarda i mezzi di trasporto della nostra città, che viene allontanata sempre di più dai grandi centri regionali e nazionali. Da qui la campagna di sensibilizzazione denominata Meglio a piedi, nella quale si propone di indossare comode scarpe da ginnastica e tute e iniziare quindi a camminare per raggiungere i centri più vicini. Ai nostri microfoni l'avvocato Mimmo Lardiello, vicepresidente della Direzione Nazionale di Forza Italia Giovani. Vista la situazione in cui versano i collegamenti fra la città di Taranto e il resto d'Italia, noi abbiamo deciso sostanzialmente che da domani indosseremo le scarpe da ginnastica, le magliette sportive e comincieremo a correre, perché visto che il mezzo più rapido, via terra per raggiungere ad esempio Roma, ci mette quasi sette ore per collegare Taranto con la capitale e la pista aeroportuale di Grottaglie giace in uno stato di abbandono, piuttosto che tutte le promesse che sono state fatte per questo territorio, che assolutamente giacciono ancora abbandonate, beh a questo punto non ci resta che, come dice lo slogan della nostra iniziativa, prendere la possibilità di sfruttare la nostra generazione e metterci a correre per raggiungere evidentemente con più facilità quelle che ne sono le altre città d'Italia. Messaggio ragazzi è venite con noi a protestare, faremo attraverso i comunicati stampa e la nostra comunicazione sui social network, sapere quali saranno gli orari e i luoghi dove colloqueremo i nostri gazebo, venite insieme a noi affinché riusciamo finalmente ad ottenere attenzione per questa che è una problematica che ha dell'incredibile, tanto è incredibile l'isolamento in cui purtroppo questa città continua a versare nonostante le problematiche serissime da cui è affranta e nonostante tanti anni di annunci e nessun risultato.